Eccolo lì! La ragione per cui il pomello del mio letto è così scintillante! Oh mio Dio, non dirmi che sei ancora ossessionata da Kent. Chiedigli di uscire allora, nel peggiore dei casi, ti dirà di no. Ma stai scherzando? È ovvio che mi dirà di no. Non uscirebbe mai e poi mai con me. Lui è un... ...ragazzo da sogno. Penso stia soffocando, non dovremo svegliarla. No, deve imparare a respirare dal naso. Visto, hai imparato. Ciao, ciao, Patti. Ciao, ciao, Esther. Ciao, zelanti ragazzi asiatici in fila per essere i primi ad entrare a scuola domani. Ehi, non abbiamo tempo per il dile ciao. Ti sono passato avanti perché non è lì concentrato. No, concentrazione pelduta, vita finita. Oh mio Dio, tutto bene, signore? Sto bene. Quest'albero era proprio la mia destinazione. E che lo scambio dei nostri lavori abbia inizio. Signore, vuole procedere con l'accordo col sindacato della sanità? Signore, ci serve un leader. Oh, come stai, Meg? Ti sei fatta male? No, sto bene. Mi sono distratta di nuovo fantasticando su Kent. Oh, non posso continuare così. Devo chiedergli di uscire con me. Scusa. È appropriato per una ragazza chiedere a un ragazzo che le piace di uscire? Ma sì, certo, tesoro, che è appropriato. È anche triste e da disperata. Io non lo farei mai. Ma tu non sei medico bene, tesoro? No, io non sono te. No, non lo sei. Pronto? Ciao, Kent. Io sono Meg, quella del corso d'inglese. E anche di matematica e di biologia. E della campagna Facebook per farmi suicidare. Oh, Meg! Ciao, come va? Ehi! Niente di che. Ecco, mi stavo solo chiedendo se un giorno ti andrebbe di uscire insieme. Certo. Wow, questo sì che è forte. Ok, allora ti manderò un messaggio. Ah, sì! No, non posso crederci. Oh, mio Dio, finalmente ho un appuntamento con Kent. Cognome! Sì, 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 sì! Oh, mio Dio! Non preoccuparti, la porta la chiudo io per te. Oh, buonasera. Salve, lei è la signora Griffin. Io sono Kent. Sono venuto a prendere Meg. Oh, Kent, è un vero piacere conoscerti. Meg si sta preparando. Meg! Kent è arrivato! Arrivo! Mi sto mettendo il rossetto! Dannazione! E questo è Chris, il fratello di Meg. Oh, sì, ti ho visto in giro a scuola. Mangi coi ragazzi sordi, vero? Uno di loro non è del tutto sordo. E dimmi, chi hanno frequenti? Una squadra di consiglieri ci sta ancora lavorando. Forte! Spero di rivederti a scuola. Oh, scusa, ti sto occupando tutto il bracciolo. Accidenti, certo che fa tanto freddo. Ci vedo qui dentro. Ah, sì? Strano, è una macchia di sudore sotto le tette. Forse significa che hanno un debole per te. Ehi, torno subito, devo andare in bagno. Grazie a Dio. È stato divertente, dovremmo rifarlo, prima o poi. Sì, assolutamente. Beh, buonanotte. Buonanotte. Oh, no, scusa, mi dispiace. Ma Kent, io credevo che tu volessi... Non era un appuntamento. Oh, Dio, mi sento così imbarazzata! Insomma, sono le dieci e mezza. Vi suggerisco di prendere la vostra dose e andarvene. Io sono gay. Tu sai che cosa? Ascolta, mi piace molto come amica, ma... A essere onesti, a me piace Chris. Cosa? Per l'amor del cielo, ho un appuntamento dal calzolaio domattina, devo essere riposato. Già, la persona da cui sono attratto è tuo fratello. Fratello? Rupert, hai sentito? Il ragazzo di Meg dice che ha innamorato di me. Non che mi importi, insomma, non sarà un problema quando gli avrò spiegato cosa c'è fra noi. Ma esattamente che cosa dovrei dirgli che c'è fra noi? Grazie, Brian! Brian! Ehi, ciao principessa. Mi tolgo dai piedi, immagino che tu voglio restare da sola. Ma perché le cose più orribili capitano sempre a me? Allora siamo in due. Io ho un raffreddore. Ora nella fase, lo voglio attaccarlo certo da amico. Tu mi capisci? Oddio, hai sentito? Sembra un guarda e parla ebraico. Lo zio dice... Il nonno dice... Cosa? La zia dice... Kent mi ha detto di essere gay e la cosa peggiore è che a lui piace Chris. Mondo cane, questo mi dispiace molto, Meg. Proprio non capisco. Io e lui frequentiamo lo stesso liceo da tre anni e ho sempre pensato che fosse un ragazzo etero. Il liceo è un periodo difficile, Meg. Magari credeva di essere etero, ma poi ha capito di essere gay. Forse cerca ancora di fare chiarezza. Resisti. Allora lo aiuterò io a chiarirsi le idee? Lo aiuterò a capire che in realtà è un ragazzo etero? Oh, accidenti, c'è mancato poco. Allora lo aiuterò io a capire che in realtà è un ragazzo e 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 un ragazzo. Allora lo aiuterò.